Sono Gianmario Villalta, con Dove sono gli anni di Garzanti, Federicata Deco, Nerovamo purissimi di manedizioni e Francesco D'Alessandro con Camminando del Labirinto Poesia, i tre finalisti del ventitresimo premio di letteratura internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolata la Domi a Bonanni. Terna, scelta dopo la riunione tra la giuria tecnica e la giuria degli studenti per definire i vincitori. Senza dubbio si può definire un'esperienza da rifare. A quei giovani piace ancora la poesia? Perché si parla tanto di questo, oggi vi piace ancora la poesia? Una bella domanda, perché anche questo è molto soggettivo. Conosco molti giovani a cui piace la poesia, appassionati si può dire, e ad altri invece ai quali non interessa. Personalmente sì, lo reputo interessante. Sicuramente c'è una grande discordanza di esperienza e anche di lavoro, dato che noi siamo informatici e quindi l'approccio alla poesia è un metodo diverso rispetto a quello che facciamo noi, che è un metodo più logico e tecnico. Quindi sicuramente il fattore soggettivo vale molto rispetto a un'opinione più oggettiva che può dare una persona con più esperienza, però è stato interessante e anche divertente a tratti, perché è un'esperienza nuova. C'è grande attesa per la giornata finale del premio il 16 novembre al ridotto del Teatro Comunale, ma prima ci saranno tanti altri appuntamenti di accompagnamento, compreso l'incontro al carcere Le Costarelle con i detenuti il 15 novembre nel pomeriggio e l'incontro con l'ospite d'onore di questa edizione la mattina, il poeta tedesco Darts Grambain. La presenza degli studenti è una presenza importante, sia perché anche loro hanno dato, sono stati presentati nove sillogi, ma tutte buone, quindi anche lì una certa difficoltà a poter scegliere. I temi sono sì i temi d'amore della gioventù, ma cominciano ad essere anche i temi civili, i temi mondiali, il tema della guerra, il tema della sofferenza, quindi segno della sensibilità di questi giovani e quindi della buona scuola, io dico sempre.